Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La rinascita della conduttrice trentina, i problemi matrimoniali e gli stop carrieristici sono acqua passata Adriana Volpe è tornata a sorridere dopo il momento difficile relativo al crack matrimoniale con Roberto Parli La fine della relazione, piuttosto tumultuosa, si è consumata dopo la sua partecipazione al grande fratello Vip4 che ha segnato uno spartiacque nella carriera della conduttrice trentina Si tuffò a capofitto nel reality show dopo essere stata lasciata a casa dalla Rai, in cui ebbe dei pesantissimi scontri con Giancarlo Magalli, la vicenda è finita carte bollate in tribunale Oggi le burrasche sentimentali e lavorative sono acqua passata, la volpe ha saputo reinventarsi e così è tornata ad essere serena come non succedeva da tempo Al momento Adriana è singolo. Da quando il suo matrimonio è giunto su un binario morto si è concentrata anima e corpo sul lavoro e sulle amicizie, oltre che naturalmente su Giseo, sua figlia All'orizzonte non si vede, per il momento, nessun lui, ma va bene così In questi giorni la conduttrice sta trascorrendo dei giorni spensierati a Sharm el Sheikh, in compagnia di un suo carissimo amico Vip, Giovanni Ciacci Con lei c'è la piccola Giselle ed è tutto un tripudio di amore materno Anche sul versante lavorativo le soddisfazioni non sono mancate, dopo il GF Vip 4 ha preso il timone di ogni mattina, TV8 Il talk ha avuto ascolti non entusiasmanti e infatti non è stato rinnovato, è però servito alla volpe per inserirsi nuovamente nel giro che conta televisivo E infatti, conclusa l'esperienza sul canale in chiaro di Sky, è arrivata la chiamata di Alfonso Signorini che l'ha voluta come opinionista del GF Vip 6, ruolo ricoperto con puntualità e acume Pare scontato che sarà riconfermata nella prossima edizione del reality, in forse invece Sonia Bruganelli Adriana Volpe e il silenzio di Roberto Parli.Il suo ex marito Roberto Parli, invece, è letteralmente sparito dai radar social e dai media, rincerandosi nel silenzio dopo aver avuto atteggiamenti alquanto opinabili nei confronti dell'ex moglie Arrivò persino ad accusarla di aver frequentato un uomo svestito innanzi a sua figlia Gisea Accuse che furono poi ritirate con tanto di dovute scuse. Ha bisogno di essere aiutato, aveva dichiarato sconfortata la Volpe che ha poi risolto la vicenda privatamente in modo saggio A oggi Parli sembra che si sia arreso, come dire che si sia messo il cuore in pace La sua strada e quella di Adriana non possono più collimare. E la vita continua anche senza di noi, giusto per citare Vasco Rossi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao